Ma perché non stiamo abitamente? Ma stiamo così, ma poi quando mangiamo? Allora quando mangiamo così, e non ce la fate, la proiezione sicuramente è a meno un centino. Allora andiamo a mangiare, avvicinatevi a mangiare, avvicinatevi, avvicinatevi, metti come se dovessi mangiare, verrà. Allora, qua fronte fronte sono 97. Significa un investimento nel tempo di fare il top? No, ma il top soltanto il pari. E' la top da, la da trattare, è un accidente.